Ecco la prugna, una di queste prugne, l'ho sezionata per farvi vedere il massimo della maturazione, è molto semplice, si lasciano sopra l'albero, certamente chi le vende non conviene perché una buona parte che è maturata anzitempo è caduta, siccome questo serve a uso famiglia, è ottimo per la marmellata, guarda un colore giallo, questo colore giallo significa che la prugna ha raggiunto il massimo della maturazione, è vero che le prugne che vendono certamente non le possono portare al mercato male duri perché anzi che le vendono al minuto si rovinano, invece al mio orto io le colgo al massimo della maturazione, una parte viene mangiata direttamente, un'altra parte viene trasformata in marmellata, la marmellata io le colgo, le raccolgo e mia moglie fa la marmellata, guarda che lusso, me la annurco, queste sono rosa, non è cambiato il valore, c'è il massimo della maturazione.